Mia vita andava su e giù, sindrome di Venier. Pertanto mio udito è variabile e allora ho fatto benissimo, ho fatto benissimo venire qua, mi sono trovata molto bene. Vi dico che siccome avevo prima di più acufeni, quando portare apparecchi, vedo che gli acufeni sono spariti. Devo andare, mi si è assaudito, vado in vacanza, ecco sono più tranquilla, questo è cambiato, che noi da poco. Io gli dico sinceramente, tutti ritardano mettersi apparecchi, perché anche per me è stato noi tanto facile, so come tutte le cose che si ritarda, si aspetta, però non bisogna aspettare e dopo anche altro, apparecchi, bisogna abituarsi, non è che ti fai un'ora, dopo togli, dopo togli, cioè è vero di attuarsi. Pertanto bisogna portare sempre, questo è il mio consiglio. La Fontogne è mia famiglia. La Fontogne è... mi sono subito... non potevo trovare il meglio. Non so se ambiente o personale, non lo so, mi sento un minato con cento per cento.